Il secondo dottorato in cultura dell'unità conferito dall'Istituto Universitario Sofia con nostra grande gioia va a Juan Carlos Scannone. Perché proprio lui? Il primo era stato dato al Patriarca Ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo per il suo spendersi a favore della unità della famiglia umana a livello ecumenico interreligioso nella salvaguardia dell'ambiente. Il secondo è dato a Juan Carlos Scannone perché è una figura insostituibile del cammino della Chiesa in particolare in Latino America dopo il Concilio Vaticano II nella recezione dei suoi impulsi più innovativi facendo ponti di dialogo. Ponti di dialogo tra il mondo europeo che Scannone ha ben conosciuto avendo studiato filosofia in Europa e la grande esperienza post conciliare del cammino della Chiesa latinoamericana facendo un ponte tra l'evangelizzazione a livello universale universale e l'approccio interculturale che caratterizza appunto la Chiesa in Latino America facendo ponti tra la dottrina sociale della Chiesa, la filosofia e la teologia e ultimamente impegnandosi a universalizzare, a rendere fruibile per la Chiesa intera il patrimonio che Papa Francesco, traendolo dalla sua esperienza in Latino America, in comunione con la Chiesa cattolica, mette a servizio delle diverse Chiese nel suo Ministero di unità come Vescovo di Roma. E' quindi una figura sulla quale vogliamo accendere i riflettori proprio per mostrare la fecondità di un Ministero di unità culturale che ha le sue radici più profonde nella esperienza spirituale straordinaria di Ignazio di Loyola nella tradizione della Compagnia di Gesù e che allo stesso tempo si apre a esperienze nuove di una spiritualità di comunione comunitaria fiorite dopo il Vaticano II. Ecco, a me sembra che una delle esperienze più significative che caratterizzano l'ultimo periodo vissuto da Scannone è appunto la sua partecipazione in quel centro di ricerca costituito nel Selam sull'antropologia trinitaria, che significa mettere in pratica quella mistica del noi che fiorendo dal Vangelo di Gesù il Vaticano II rimesso al centro e che il Ministero di Papa Francesco sottolinea come chiave per realizzare quella cultura dell'incontro che è la grande frontiera dell'umanità di oggi.